Fuori finalmente regna un po' di cielo azzurro e sole Qui c'è Bjornino Si è svegliato dalla sua penichella Mattutina Siamo già andati fuori a fare una lunga passeggiata Aspettate che sono le 9 Fanno, non lo so, di sicuro due gradi perché si gela Ed è appunto martedì 7 dicembre Io avrò il turno di pomeriggio oggi Quindi me la sto prendendo con più calma Andiamo ad aprire la nostra casellina di oggi La numero 7 Eccola qui Così prendo il dolcino con il mio secondo caffè della giornata Perché ne ho proprio bisogno prima di iniziare a studiare Ma ma perché non riesco ad aprirlo? Aspettate L'ho aperto ma non so che cosa sia successo qui Mi sa che era andata a finire qui la barretta Chissà di quale casella faceva parte Forse la numero 16 Non lo so Intanto prendo il cioccolatino inerente alla casellina del giorno numero 7 Vediamo un po' com'è Buonissima Dal cuore morbido Che sa di nocciola Adesso andiamo a vedere E questo qui No questo qui perché Cioccolatino alla nocciola Perché non sa di caramello Oh mamma Sarà buonissimo questo qui al caramello Con il cuore morbido Però sono certa che sia questo qui Ovviamente lui quando si apre il calendario dell'avvento Appena c'è qualche rumore Che possa simulare l'apertura di qualcosa di buono da mangiare Eccolo lì E' subito pronto Bibo Ma tu già hai mangiato E tra un po' dobbiamo riuscire un altro pochino Prima mamma si fa il suo bel tempo di studio E poi andiamo Oddio Non ricordavo quanto fosse brutto Freddo Quello vero Sì Grazie a tutti E' arrivato anche l'8 dicembre, non trovo la casellina, adesso la cerco perché sì oggi è già mercoledì 8 dicembre e ieri tornata da lavoro mi sono messa a studiare la stessa cosa sto facendo oggi Quindi spero di riuscire a registrare qualcosina in più oggi, eccolo qui l'8 e per farvi uscire un video domani ma non vi garaggisco nulla Quindi magari sarà un vlog di diversi giorni, oh questo è veramente bellissimo Eccolo qui Passaggio eh E' fatto così E' buonissimo E' anche più buono di quello al cocco Veramente buonissimo Vado a vedere come è fatto E' questo qui Bicchierino alla stracciatella Ragazzi secondo me è il più buono mai uscito tra tutti Cioè perlomeno tra tutti questi assaggiati Ha superato anche questo qui alla nocciola e questo qui al cocco E' buonissimo Veramente super Era minuscolo Rispetto agli altri Questo poteva essere decisamente più grande per quanto era buono E la buongiorno Finalmente mi faccio vedere Ieri ho registrato giusto la clip della mattina Dove vi mostravo insomma il contenuto della casellina La numero 7 perché oggi è 8 E appunto non sono andata al lavoro Sono a casa Sto studiando da stamattina Ho acceso tutte le lucine L'alberello E ho tardi ad andare a prendere anche le cose giù in cantina Per finire di addobbare casa Ma non lo farò prima di stasera Perché dovrò passare tutta la giornata a studiare Infatti non vi mostrerò nulla questa giornata Adesso vi faccio vedere giusto Una cosa velocissima che ho messo a preparare E insomma sei preparata da sola in verità Ecco qui il pranzo di una poveraccia Che deve passare tutto il suo giorno libero Festivo a studiare Mi sono preparata questo sai che buon In formato XXL Ci ho aggiunto adesso l'acqua bollente Devo attendere 3 minuti per appunto mangiarlo Sto studiando Questi sono i miei mille mila appunti Lì ci sono i resti di stamattina Il tè Il caffè Insomma Questo vi fa capire che praticamente È da stamattina che non mi alzo da questa sedia Mi sono giusto data una sistemata Mi sono truccata Lavata Però ho rimessa in mia pigiama Ho rimessa in pigiama perché volevo stare calda e comoda Ho steso una lavatrice Anche se fuori il tempo è usceno Adesso vi faccio vedere Non so se vi rendete conto Guardate Ieri tutto il giorno Al lavoro Insomma al pomeriggio sono stata al lavoro E poi a studiare E oggi che sono libera E potevo andarmi a godere una bella passeggiata con Bjorn Con un bel tempo Non si può Perché appunto c'è il Insomma La catastrofe quel fuori Un vento pazzesco Io penso che sia pronto Ha un bel profumino A di là di ogni Ecco Previsione Perché insomma Io non confido tanto In queste robine qui Per carità Però appunto L'avevo acquistato Un po' di tempo fa E mi sono detta Visto che ce l'ho E visto che veramente Ho pochissimo tempo Per cucinare Me lo preparo Quindi farò anche questo mio pranzo Velocissimo qui Davanti agli appunti Che ripasso 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 Perché a breve Avrò anche una prova Intercorso E quindi non sarà un esame Quindi devo assolutamente Studiare per questa prova Che insomma Concluderò Quest'esame A giugno Luglio Quindi Diciamo che È tutto e niente C'è lui Poveraccio Che patisce questa cosa Che io Purtroppo Non posso Uscire Se non appunto Portarlo a fare Una passeggiatina Velocissima fuori casa Perché poi appunto Devo ritornare a casa E devo approfittare Di questo giorno libero Per poter Studiare Perché altrimenti Durante la settimana Non posso fare proprio niente Lui sempre Curiosone Qui Forse mi sarei dovuta Accaricchiare Per poter Per poter Giorgio, vieni, vieni qua. Vieni qua. Questa è la spazzolata di oggi e così tutti i giorni, cioè si può fare un cuscino. Buongiorno, stamattina si comincia col botto, sono arrivata all'ennesimo capitolo da terminare ma devo andarmi a sistemare perché devo portare i Bjorn fuori e stamattina devo seguire una lezione e poi andare al lavoro. Adesso mettiamo in stop il libro. Buongiorno, mi sto sistemando, ho già messo la maglia termica e sopra ci vado a mettere poi il maglioncione che andrò qua a mettere oggi per andare al lavoro e svolgere la mia giornata. Il mattino ho fatto una skin care super super idratante, ho iniziato a riutilizzare, visto che è arrivato il freddo, il gelo, ho iniziato ad utilizzare il mio olio preferito insomma di cosmetica, preferito l'olio di rosa moscheta. Adesso andiamo ad aprire la casella numero 9 perché oggi è il 9 dicembre. Eccoci qui, avevo individuato il numero 9 prima perché poi finisce sempre che devo mettermi a cercare. Eccoci qui, vediamo cosa c'è oggi. Vedo una piccola barrettina, aspettatela di fuori. Questa barrettina qui, carina, assaggiamo. Mars, buono, è uguale al Mars praticamente, simile a qualcosa tipo caramello. Allora, cioccolato con torrone al latte e nocciole. Ci azzecco quasi sempre, stavolta mi sa che quello non era caramello, non ho idea di che cosa fosse, ma sembrava caramello a livello di sapore. Non lo so, comunque molto molto buono, assomigliava molto al Mars. È andata, adesso porto Bjorn fuori. Il freddo che fa stamattina. Buongiorno. Diamo inizio a questo quarto giorno, quarto giorno di vlog che non sono riuscita a terminare. Ragazzi, cioè, credetemi, sono veramente impicciata. Uno shampoo, sto andando a farmi appunto lo shampoo e vi mostro, ne approfitto, vi mostro i prodotti di cui vi parlavo il vlog scorso. Quelli di Bottega Verde che sto utilizzando e con cui mi sto trovando molto molto bene, soprattutto quando ho intenzione di fare la piega liscia. Siccome ho veramente tantissimi, aspettate, tantissimi shampoo aperti anche, perché io su queste cose veramente sono una che piace tantissimo provare cose nuove e prodotti nuovi. Appunto, ne ho tantissimi di shampoo e tra cui tantissimi aperti che devo solitamente terminare. Non ho preso appunto lo shampoo della stessa linea, ma appunto soltanto il balsamo. Sto utilizzando questo come shampoo, ma in questo caso vi voglio parlare di questi prodotti qui, perlomeno del balsamo, ma sicuramente prenderò anche lo shampoo della stessa linea, perché mi sto trovando super bene. La cheratina e cocco, e capelli lisci o da lisciare, infatti mi ci trovo benissimo. E poi vado ad utilizzare questo prodotto qui, sempre cheratina e cocco, latte spray senza risciacquo, protettivo e lisciante, lo trovo benissimo. Secondo me questo qui fa veramente tanto, quindi per questo sono davvero curiosa di prendere anche lo shampoo, perché se con soli questi due prodotti, balsamo e questo prodotto spray, appunto prima di passare alla piega, mi sto trovando così bene, non so immaginare se vado ad utilizzare anche lo shampoo. Comunque sono questi prodotti perché appunto vi avevo detto che sicuramente ve li mostravo. E là eccomi che mi faccio vedere dopo, insomma, un bel po' di clip dove non mi travedevo nemmeno per sbaglio, perché in questi giorni veramente non ho fatto altro che studiare. Stamattina sono andata al lavoro e ho fatto il torno di mattina, ho staccato, mi sono messa subito sui libri, poi è arrivato il momento di farmi assolutamente uno shampoo super necessario. Ancora non li ho lisciati, guardate l'effetto dei soli prodotti e l'asciugatura fatta con l'asciugacapelli, così insomma, con un po' la spazzola, con l'aiuto della spazzola. Già sono venuti super lisci, dopo o domani, adesso vedo un attimino quando è che apro voglia, passerò la piastra. Penso dopo perché fuori piove e devo portare ancora bianco fuori, quindi sicuramente prenderò un po' d'acqua, senza ma, quasi sicuramente perché piove. Ad ogni modo adesso mi metto ancora un po' sui libri, ho messo a lessare, non a lessare, a fare al vapore delle verdure. Ho fatto il cavolo nero e le carote al vapore e stasera appunto mangerò questo bel carico di verdure, un po' di formaggio. Adesso vedo un attimino nemmeno tanta fame, sto pensando soltanto a questa prova intercorso che mi attenderà tra una settimana, quindi devo studiare come una matta disperata. Comunque ho qui il calendario dell'avvento, adesso apriamo la casellina numero 10. Allora, eccoci qui. Eh, una parola. Dove si trova il numero 10? La cerco e poi... Eccola qui, va bene. Abbiamo individuata. Perché è così difficile? Oh mamma, una faticaccia. Ce la facciamo. Ah, mi sa che è una barretta, anche questa. Sì, è una barretta. Non so che gusto, ma sarà simile a quella della volta scorsa. Eccole qui, mini tavolette al cioccolato al latte. Penso che non la mangerò perché non è niente di particolare. Oggi ho fatto la mia merenda con yogurt e gocce di cioccolato, quindi... Se fosse uscito qualche cioccolatino pure pure, ma questo qui lo conserverò per mangiarlo in un secondo momento. Questo è quanto. C'è lui che... Un po' qui che mi ha portato la sua ciotola, guardate? Me l'ha portata qui e a quanto pare ha piuttosto fame. Ecco il mio cavolo nero pronto, bello che stufato, la vaporiera. Questa sarà la mia super cena. Mangerò vicino anche delle carote. Questo è il formaggio che andrò a mangiare vicino alle mie super verdure. La mia boffata di verdure. E poi mangerò vicino anche questi crostini al farro che sono buonissimi, che prendo l'EvoSpin. Ragazzi, non ha smesso di piovere nemmeno cinque minuti da oggi pomeriggio. Ormai è sera. E piove, piove, piove. Mannaggia, io sarei dovuta uscire di nuovo con Bjorn, ma non riesco. C'è veramente troppa, troppa pioggia. Mi bagnerei tutta. Visto il consigliato che fa un freddo pazzesco, bagnata non ci posso stare in giro, quindi non so che fare. Siccome non ho mangiato il cioccolatino del calendario dell'avvento, e siccome dovevo terminare questa barretta, insomma questo cioccolato, che avevo aperto ormai, ma penso più di una settimana fa, e avevo richiuso in questa bustina qui, per salvaguardare, insomma, un po' il sapore del cioccolato, per non farlo andare a male, ecco. Già sapevo che non l'avrei finita, insomma, tutta da sola, e quindi l'avevo chiusa in questa bustina, però ho voglia di cioccolato, e quindi vado di questo, è veramente buonissima, è appunto Winter Edition, ed è appunto biscotto speziato all'interno, è veramente speciale come gusto, e molto molto particolare, adattissimo per questo periodo, insomma, un po', ecco, un periodo invernale. Mi sono messa al calduccio vicino al cremosifone, perché ragazzi, oggi, come anche ieri, fa un freddo incredibile, anzi, forse, oggi fa decisamente più freddo rispetto a ieri, che si avvertiva veramente tutti i due gradi che riportava il meteo, poi noi qui a centro sud, non siamo per niente abituati, a questo freddo anomalo, però a Natale ci può stare, chiuderò qui questo vlog, perché adesso mi farò giusto un'altra oretta, due ore di studio, e poi crollo a letto, perché sono stanchissima, domani dovrò svegliarmi molto presto, perché ho assolutamente intenzione di portare questo poveraccio che oggi non è potuto proprio uscire, perché ha piovuto tutto il giorno, zero, stamattina sono andata al lavoro, oggi pomeriggio l'ho portato velocissimamente a fare una passeggiata, ma adesso sta piovendo troppo, troppo forte, quindi porterò a lui a fare una grandissima passeggiata, una lunghissima passeggiata, poi studierò, e poi nel pomeriggio dovrò ricambi in università per seguire i laboratori. Quindi sì, questo sarà il programma della serata, dopo cena, insomma, molto accenato, quindi dopo cena, e quello di domani, programma di domani. Non mi resta che salutarvi, noi ci vediamo presto in un prossimo video.